Ciao a tutti, uno degli aspetti più critici di questa mia avventura sarà la conservazione dell'insulina. Vi chiedete come farò? Date un'occhiata. Viaggerò con una scorta sufficiente a coprire i primi 12 mesi della mia avventura, quindi durante il viaggio dovrà farmi spedire un'ulteriore scorta direttamente dall'Italia. Ci vediamo quindi alla prossima. Ciao!